Buongiorno a Maurizio Scaglione, Alberto Samonà, ai numerosi lettori del Sicilia.it Naturalmente mi rivolgo come Presidente per Alberghi Sicilia e come Ministro Delegato dell'Aeroporto di Catania a voi per un tema che è quello dei trasporti, quello del turismo. Quest'ultimo è quello che è andato sicuramente per primo in crisi e che probabilmente sarà l'ultimo a rialzarsi perché una volta, e preghiamo Dio sia prestissimo, superato il problema del coronavirus è chiaro che non ci si rimetterà subito in moto o che la prima impellenza non sarà quella di viaggiare. I nostri collaboratori hanno bisogno di enorme aiuto, le strutture alberghiere ed ex alberghiere rappresentate da Fede d'Alberghi hanno presentato un documento sia a livello nazionale che a livello regionale per una serie di interventi e di misure che possono essere utili alla sopravvivenza delle strutture e quindi al mantenimento dei posti di lavoro che sono indispensabili a tutti quanti noi oggi come domani. Per quanto riguarda purtroppo l'aeroporto abbiamo numeri assolutamente ridicoli in termini di passeggeri perché facciamo due soli voli di andata e ritorno da Catania a Roma, come è giusto che in questo momento sia per garantire la mobilità a quei soggetti che anche in maniera forzata devono viaggiare per motivi di salute piuttosto che perché devono ritornare in Sicilia, anche perché mandati via da altre nazioni. Noi in questo momento non vogliamo lamentarci ma vogliamo ribadire che oggi è il momento della solidarietà intanto a tutti quelli che come noi ma in maniera più importante di noi sono costretti a lavorare penso ai medici, penso a tutti quelli che sono paramedici, agli infermieri, ai farmacisti a tutti quelli che eroicamente oggi stanno facendo senza lamentarsi il proprio lavoro. Noi vogliamo dare un messaggio di solidarietà ma vogliamo anche dire a chi ci governa che è senz'altro il momento a tutti i livelli di pensare alla povertà che sempre più in maniera diffusa immaginiamo possa essere un rischio. Penso ad esempio al settore alberghiero, alle strutture stagionali che si avvierebbero o si sarebbero avviate alla riapertura e che non potranno riassumere nessuno dei lavoratori i quali rimarranno assolutamente disoccupati e quindi oggi fanno immaginate misure drastiche non per qualche settimana per sostenere il reddito delle persone e quindi garantire la dignità. E a quella che ci rivolgiamo per quanto riguarda, ripeto, settore alberghiero e extraalberghiero siamo in linea, molti di noi sono aperti garantendo un servizio essenziale e altri hanno scelto di non esserlo legittimamente. Per quanto riguarda i trasporti dobbiamo pensare sicuramente a un periodo migliore purtroppo stiamo utilizzando la cassa integrazione ma è quella che ci garantirà di non perdere occupazione e posti di lavoro. Buona giornata. Grazie. Grazie a tutti.